Ma continuiamo sempre con Mauro per conoscere questo Sony VAIO particolarmente bello nel design con una scheda grafica anche molto potente si chiama VAIO CW CW è il successore della linea Sony VAIO, della linea colorata conosciuta per questo qui abbiamo il modello bianco, esiste anche la versione rosa e esiste la versione nera la versione rosa è sicuramente quella più ricercata vediamo la tastiera tasti isolati che è un classico, ormai un must dei computer Sony molto comoda anche per le unghie lunghe, quindi per le ragazze quella che si chiama tastiera isole? tastiera isole ecco, allora l'avevo capito bene esatto qui vediamo anche un dettaglio dei pulsanti web, display off e VAIO che sono dei tasti speciali il tasto web in particolare ti permette di, premendolo, di entrare in internet senza entrare nel sistema operativo quindi in 15 secondi sei proiettato con un browser in internet il dettaglio della connessione HDMI quindi ha anche un'uscita in alta definizione una scheda grafica molto performante come dicevi prima il drive integrato è un 14 pollici con schermo a retroilluminazione a led quindi molto luminoso e consuma molto poco questo permette a questo VAIO di arrivare anche ad un'autonomia di quasi 4 ore ha dei software speciali come in particolare vediamo, stiamo vedendo il VAIO Media Gallery sì Media Gallery che permette di gestire foto, musica e video in modo molto intelligente perché ha un'intelligenza artificiale molto potente che è in grado di apprendere i gusti dell'utente quindi io ascolto un genere di musica particolare il VAIO sarà in grado di propormi altri brani, altri artisti simili magari andando a pescare informazioni da internet facendomi vedere dei collegamenti a YouTube di artisti simili e poi vediamo questa barra speciale che c'è installata su tutti gli ultimi VAIO che si chiama VAIO Gate, che è una barra con dei link si può personalizzare con le applicazioni che si usano più spesso bene, ci puoi dire il prezzo che non è nemmeno così spaventoso sì, questo VAIO CW costa 799 euro è già uscito? è uscito, sì, è nei negozi in questi giorni bene, grazie Mauro